...di sport, a chiudiamo di zero basket, con basket a tutti, oggi siamo ospiti della società Pielo Livorno che vi graziamo, da detta Tampo a Massicchi, perché siamo venuti a venire lo scrimaggio da Pielo Livorno e Spezia, il coach Maurizio Pertelà. Finisce 63 pari lo scrimaggio tra Pielo Livorno e Spezia, una partita intensa, anche se diciamo di allenamento, ma entrambi le squadre si sono cimentate in vista della prossima settimana, dove inizierà il campionato Alba per Pielo Livorno e Arezzo per Spezia Basket. Buonissima la gara degli Spezivini, finisce 63 pari, assenti per Livorno, Iardella, Tempestini, per quanto riguarda invece Spezia, a tutti i presenti, buonissima la partita di Bolis, Kutnic e soprattutto di Vignale, con l'inserimento di alcuni giovani interessanti, anche da Prado, non scherza, è Cale, giovani dell'Under 19 che mercoledì saranno impegnati nello spareggio per entrare nel campionato, andò dicendo di eccellenza a Toscana. Insomma 63 pari da Cecioni in attesa del campionato. Grazie a tutti!